Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ARA e benvenuti in questa recensione oggi abbiamo tra noi Pan Super Hero appunto direttamente dal film da Dragon Ball Super andava recensita in edizione limitata eccola qui la nuova versione di Pan confezione naturalmente eccola qui la solita figa che sia dorata per approfittare dello sconto ragazzi con il codice appunto ARA20 che inserirete nella sezione apposita del coupon quando avete aggiunto i prodotti del carrello avrete tempo solo fino al 17 agosto è chiaramente disponibile su tutti i prodotti disponibili scusate il gioco di parole e chiaramente anche su questa Pan quindi se la volete con un po' di sconto potete approfittarne subito ma direi di non perdere tanto tempo andiamo subito a vederla fuori dalla confezione ed eccola qua ragazzi chiaramente minuscola andiamo a vedere tutti i suoi accessori cominciamo dalle manine intercambiabili allora abbiamo queste due qui vedete a palmo aperto eccole qui chiaramente anche queste piccolissime poi abbiamo queste due qui in questa posa e poi abbiamo queste invece che si vanno a collegare agli altri accessori con questo peg che hanno all'interno cioè queste bottigline d'acqua che sono veramente fighe super mineral eccole qua appunto si inserisce la bottiglia all'interno della mano in questo modo qui e quindi la regge senza alcun tipo di problema figata ci sono due bottigline d'acqua ovviamente poi abbiamo l'ennesima testa intercambiabile per Gohan Super Hero con questa espressione vedete felice con l'occhiolino testa intercambiabile con i capelli svolazzanti mossi dal vento e poi abbiamo tre visi intercambiabili questo qui espressione seria con la bocca aperta in questo modo molto ben fatto stampa perfetta ovviamente questo qui con la bocca aperta urlante anche questo perfetto e questo qui invece sorridente eccolo qui e ora andiamo a vedere la nostra pan più nel dettaglio ecco qua il viso di base di cui è dotata questo viso questa espressione diciamo seria comunque figo con questo caschetto il ciuffetto fatto molto bene non ci sono sfumature sui capelli abbiamo la stampa sulla maglietta come vedete fatta molto bene maglietta in plastica morbida poi vedremo le articolazioni e per il resto questo è il nuovo outfit di Pan outfit da combattimento che devo dire non è per niente male con le scarpette rosse eccola qui allora articolazioni testa molto molto mobile in su e in giù anche laterale rotazione in questo modo qui top articolazione alla testa le braccia hanno il piegamento in alto la butterfly joint comunque anche se è una figura piccola anche all'indietro chiaramente rotazione in questo modo qui rotazione qui nascosta dalla manica piegamento al gomito articolazioni comunque ben fatte nonostante la figura sia molto piccola e molto esile in alcuni punti ci sta poi abbiamo anche naturalmente la rotazione al polso il piegamento al polso mezzo busto abbiamo anche il piegamento in avanti e all'indietro faccio vedere al di sotto della maglietta ecco qua come è fatta l'articolazione maglietta ripeto in plastica morbida appunto con la spaccatura qui per permettere un movimento appunto migliore dell'articolazione anche di lato rotazione la gamba va in avanti la gamba va all'indietro l'apertura laterale comunque c'è ci sta rotazione anche la parte superiore piegamento qui al ginocchio qui bisogna fare attenzione ecco qua a trovare il verso giusto comunque buon piegamento rotazione anche al ginocchio piegamento al piede in su piegamento in giù rotazione in questo modo della caviglia rotazione e persino il piegamento alla punta del piede della scarpa ed eccoci alla misurazione dell'altezza naturalmente la figure è minuscola essendo una bambina siamo circa sugli 8 centimetri quindi 3 pollici e mezzo eccola come sta a confronto con il Gohan tra l'altro a cui ho montato la testa aggiuntiva Marvel Legends Spider-Man inutile Monezza Spider-Man e anche Naruto e Sage Figures direi scala perfetta e ragazzi eccoci qui sulla basetta rotante ci ho messo mezz'ora per fare questa posa perché continuavano a cadere le figure comunque ho voluto farvi vedere che comunque la figure si può posare nonostante sia molto piccola le articolazioni ce l'ha qualche posa dinamica interessante la può fare comunque diamo i voti allora accessori mi sarei aspettato sinceramente qualcosina in più qualcosina in più do un 7,5 anche una basetta magari per quanto riguarda invece le articolazioni devo dire sono delle buone articolazioni per una figure così piccola veramente do il 7,5 per quanto riguarda invece l'estetica beh veramente ben fatta sembra uscita direttamente dall'anime secondo me l'otto se lo merita tutto ragazzi è una buona figure una buona figure non vi dico non vi dirò mai che è una figure essenziale per la collezione però chiaramente se le state prendendo tutte va presa anche questa naturalmente e ripeto potete approfittare dello sconto che c'è sul mio sito adesso con il codice ARAVENTI fino al 17 agosto voto finale per questa figure un 7,5 un 7,5 secondo me se lo merita non hanno sbagliato nulla potevano fare meglio però è una buona pan assolutamente fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto il like al video si è aperitissimo così come anche la condivisione io vi ringrazio come sempre per la visione ciao Dara da Pan e Gohan e come siete sempre